E salve a tutti ragazzi e benvenuti nella seconda parte del video Oggi sono andato a casa, non so, è qua vicino tanto a casa Oh no, c'è Robby, eccolo È tornato Ragazzi tra poco uscirà Mistledood RPG E se lo volete, non costando Se lo volete, pure iscrivetevi E iscrivetevi, perché ordiniamo gratis No, allora, ragazzi, se voi iscrivete Oggi è la parte 2 del video a casa e gli amici Basta, basta Sono le 23 Vero Giulia? Oggi sono, sì Vediamo Sì, sono le 23 Ecco, tirò, Beert Re, Beert Ma che no Pensate ragazzi, tra poco andremo a fare il video a Sorrento E andremo a fare a casa degli amici di Sorrento Però oggi faremo anche la parte 3, Giulia Ci proveremo E la parte 4, la parte 5, la parte 1000 Ragazzi Allora, almeno la parte 3, la parte 4 e la parte 5 la faremo oggi Allora Se volete iscrivetevi al canale di Robby Non concludere, non concludere E io non concludo Iscrivetevi al canale di Robby Vi ricordo che si chiama Infinite Game Official Se volete ripetete, mettete un po' il video indietro e risentitelo Se volete iscrivetevi al canale di iscrivetevi al canale Dovete sparare E li dovete vi lasciare No, sta scherzando Chiedetegli E condividetegli il video Io gli ho condiviso il video ad Ernesto una volta Una volta ho condiviso il video ad Ernesto Se vedete dei libidi, non vi preoccupate Ragazzi, guardate La spartoria La spartoria Siamo su forno E oggi Ha trovato un bel famas Ecco un bel famas Oh no, mi devo fare gli scendini Aspettate Ok ragazzi Questa è la vecchia animazione Ora ho uno scendone grande Si beve così Prima si bevano così E ma si bevano Guardate 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 Oh no Troppo scudo Sta per esplodere Ma scopriremo che succederà nel prossimo episodio Ciao ragazzi E ricordate di iscrivervi e attivare la campanella Non sapete che succederebbe solo nell'episodio 3 E condividete il video a tutti i vostri amici Ciao ragazzi